bene eccoci di nuovo qui e bentornati sul canale carissimi che mi seguite oggi mi è arrivato questo da ebay cos'è cos'è è un rasoio andiamo a vederlo insieme allora innanzitutto esaminiamo un attimino queste lamette cinesi non pronuncio il nome perché tanto lo pronuncerei in maniera errata dovrebbero essere 10 vediamo un po è più difficile far uscire queste che stuzzicadenti si sono 10 poi le proverò ma la cosa che più mi interessa è questo guardate che carino ecco mi faccio un riflesso nello specchiettino allora rasoio cinese a farfalla appoggiamo un attimo qui allora vedo che c'è un pennellino per la pulizia e un'altra lametta della stessa marca del rasoio che vi ripeto non pronuncio perché la pronuncerei male bene esaminiamo un attimino il rasoio apertura a farfalla da qui sotto simpatico e metti a fuoco mamma mia deve fare queste figuracce allora ecco la metta chiaramente si inserisce qui dentro e si chiude una volta chiuso non ha movimenti strani parti lente molto simpatico è abbastanza leggero è come termine di paragone non so come peso il classic sembra addirittura più pesante il wilkinson leggermente più corto forse si avvicina al fatip come dimensione e sì ci siamo quasi vedete completamente differente la parte quella che va a contatto con il viso il fatip al pettine con i denti che risulta essere particolarmente aggressivo ma io sinceramente mi ci trovo abbastanza bene questo invece è fatto così non dovrebbe essere molto aggressivo questo come peso non c'è paragone il patip penso pesa tre volte questo comunque bisognerà testarlo sul campo primo video che farò mentre farò la barba userò proprio lui non so con quale la mente sinceramente se con questa o con questa non lo so poi vediamo va bene ragazzi e con questo io vi saluto spero vi piaccia a me sinceramente piace bisogna vedere come si comporta sul viso detto questo vi saluto e ci vediamo col prossimo video ciao a tutti